Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. Siamo entrati nella settimana santa, che vuole essere un periodo in cui il Signore particolarmente si manifesta a noi nella sua missione, nella sua opera di salvezza, e si manifesta perché vuole che tutti noi lo conosciamo, che lo incontriamo nella nostra vita, nel profondo della nostra anima, che ci lasciamo afferrare dalla sua grazia e trasformare in creature nuove, destinate a crescere continuamente fino a raggiungere la perfezione della santità e dell'amore, e del progetto che dia su tutti noi. Ricordiamo le parole di Gesù a Santa Faustina Kowalska, che le diceva «Un'ora di contemplazione della mia passione giova più di un anno di flagellazioni». E infatti Gesù vuole rivelarsi a noi, nella sua umanità, nella sua concretezza, perché noi abbiamo bisogno anche di vedere, di sentire, di toccare, e con Lui si vuole manifestare a tutti i fratelli. E la liturgia di questi giorni si esprime in maniera tale da farci comprendere quella che la vocazione del Messia, quella che è la missione del Messia, e quelli che sono anche i frutti della sua venuta. Chiediamo al Signore di illuminarci, di soccarci profondamente, perché il nostro cuore ha bisogno di Lui. Anche se non ce ne accorgiamo, come dice Sant'Agostino, «Signore, Tu ci hai fatti per Te, e la nostra anima non trova pace finché non riposa in Te». E come vuole riposare Gesù in noi, comunicandoci tutta la pienezza della Sua grazia? È un mistero grande, fratelli, che non comprenderemo mai abbastanza, perché il cuore di Gesù non vuole darci dei doni, delle consolazioni, dei contentini, tutt'altro, vuole darci tutto. Come un genitore che ama il proprio figlio, vuole dare tutto, più di quello che ha. Così il Signore vuole dare tutto di sé. E lo dice Gesù stesso nel Vangelo, nella preghiera sacerdotale, «Padre, la gloria che Tu hai data a me, io l'ho data a loro. Padre, che l'amore con il quale mi hai amato sia in essi, e io in loro». Gesù non ci dà qualcosa, ci dà se stesso con tutta la sua ricchezza. E questo, fratelli, ha fatto traboccare il cuore di tanti santi che hanno afferrato questo mistero d'amore. E tanti di loro sono morti d'amore, giubilandolo, non vedendo l'ore di incontrarsi con il loro Salvatore, con il loro Signore. Mando, Signore Gesù, su di noi il Tuo Santo Spirito, perché ci apra mente e cuore. Ci purifichi della nostra grettezza, della nostra superficialità, dal nostro attaccamento ai sensi e alle cose mondane, perché la nostra anima è fatta per Te, Signore Gesù. Donaci e dona a tutti questa grazia di accoglierti. Tu sei venuto per rivelarti e comunicarti, sì, la pienezza della Tua grazia. Entra, passione, la vita di tutti. E dimori in noi, non come un ospite, né come un visitatore, ma come colui che fa con noi un patto eterno d'amore, si indega a noi eternamente e rimane stabilmente in noi, per trasformarci tutti in Lui. A Te, Gesù, gloria, onore e potenza per tutti i secoli dei secoli. Amen. E in questi primi giorni della Settimana Santa, nella liturgia eucaristica, la Chiesa ci presenta ogni giorno uno dei brani che si riferisce al servo di Yahweh. Leggo il testo del brano che ci è proposto oggi, che ci mette davanti la vocazione del Messia, la sua opera e i suoi frutti nella nostra vita. Ecco, dice il Signore, il mio servo, che io sostengo, il mio eletto di cui mi compiaccio. Ho posto il mio spirito su di Lui. Vedete come si parla continuamente del Messia, fratelli e profeta Isaia, come colui che porta lo spirito di Dio. Si dice in altro passo, su di Lui si poserà lo spirito del Signore. Lo spirito del Signore è sopra di me, ma consagrato con l'unzione. E la caratteristica del Messina viene pieno di spirito santo. Chi incontra Gesù, incontra lo spirito santo. E Lui porta a noi lo spirito di Dio, la vita stessa di Dio. Ricordate le parole di Paolo ai Colossesi. E Lui abita corporalmente tutta la pienezza della divinità e noi in Lui abbiamo parte alla sua pienezza. Vedi, fratello e sorella, quale grande vocazione il Signore ti ha dato. Anche se al momento hai qualche acciacco, qualche debolezza, ma sappi che la tua vocazione ha entrare in questa ricchezza, in questa pienezza e anche nella potenza di Gesù per l'eternità. Quindi, ho posto il mio spirito su di Lui. Egli porterà il diritto alle nazioni. Non crederà né alzerà il tono. Non farà udire in piazza la sua voce. Non farà chiacchiere. Non spezzerà una canna ingrinata. Viene per rafforzare. Proclamerà il diritto con verità. Non verrà meno e non si abbatterà, finché non avrà stabilito il diritto sulla terra. Finché non avrà stabilito il diritto di Dio sulla terra. Su questa terra, fratello, deve dominare lo Spirito di Dio, che oggi è combattuto, oggi è deriso, perseguitato. Eppure Gesù l'ha detto. Non prevalevut. Le forze degli inferi non prevarranno. Questa è la volontà del Padre. E questo si deve realizzare. E le sofferenze che stiamo attraversando sono proprio dovute al fatto che si sta avvicinando a giorni in cui il Signore instaurerà il suo regno su tutta la terra. Così, dice il Signore Dio che ha creato i cieli e le dispiega, distende la terra con ciò che vi nasce, dare respiro alla gente che la abita e l'alito a quanti camminano su di essa. Io, il Signore, ti ho chiamato, è rivolto questo al Messia, al servo obbediente e sofferente, ti ho chiamato per la giustizia e ti ho preso per mano. Ti ho formato e ti ho stabilito come alleanza del popolo. Cioè, tu sei il vincolo del mio amore col popolo. L'alleanza e l'unione di due vite in una maniera indissolubile, per cui i due diventano ancora solo un'anima sola. Gesù è colui in cui Dio Padre stabilisce un'eterna alleanza con noi, perché noi diventiamo una cosa sola con Lui. Ti ho formato e ti ho stabilito come alleanza del popolo e luce delle nazioni. E qual è lo scopo? Perché tu apra gli occhi ai ciechi e faccia uscire dal carcere i prigionieri, dalla reclusione coloro che abitano nelle tenebre. Signore, Gesù, tu sei questa luce. L'hai detto tu stesso. Io sono la luce del mondo. Signore, facci gustare questa luce. Penetra nella nostra anima. Penetra nel cuore tutta la nostra società dell'umanità intera. E rinnovaci tutti, Signore, secondo la Tua parola. A Te salga la nostra lode, la nostra riconoscenza, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, la primizia della redenzione, la più preziosa perla dell'opera di Gesù Cristo, intesa che sono compiute tutte le promesse di Dio, ogni dono di grazia intesa e realizzata, fino a raggiungere anche la piena, la pienezza della gloria attraverso la Tua gloriosa assunzione al cielo. Oggi, compagno, noi che siamo ancora nel travaglio del parto, che siamo ancora in via di formazione, e spesso ci smarriamo per la nostra fragilità. Col Tuo cuore materno assistici e proteggici, e donci di incontrare Gesù, quale Gli è realmente il Salvatore potente, Principe della pace. A Lui gloria, onore e potenza per tutti i secoli dei secoli. Amen. Tieni nel Tuo cuore, fratello, sorella, la visione, questa visione, della promessa di Dio, che ha progetti da realizzare in Te. Tutto questo che vi l'hai detto per il Messia, Dio lo vuole realizzare nella Tua vita. Abbi fede, abbandonati a questo amore, lasciati afferrare da questo amore, e te vedrai la luce. Amen. Grazie a tutti.